Gentili colleghi, oggi vi presentiamo il caso di una primigravida nel corso della quattordicesima settimana, una gravidanza spontanea con anamnesi patologica negativa che giungeva presso la nostra osservazione per il riscontro di una formazione addominale fetale. L'esame metteva in evidenza la presenza appunto di una formazione anecogena localizzata nelle mie addome di destra che misurava in toto circa 8 per 3 mm. Tale lesione appariva priva di vascularizzazione e priva di setti, con la presenza di un'area calcifica di rinforzo nella regione posteriore della parete di tale formazione. Abbiamo quindi eseguito un attento studio della restante anatomia fetale, la testa appariva regolare con plessicoridei nella norma, l'addome anche era regolare con evidenza di uno stomaco appunto normorepleto e di una circonferenza addominale corrispondente all'epoca di gravidanza. L'intestino appariva regolare in assenza quindi di altre calcificazioni, la vescica normorepleta con entrambe le arterie ombelicali e si visualizzavano entrambe le arterie renali ad indicare indirettamente la presenza di entrambi i reni. Lo studio precoce dell'anatomia cardiaca fetale ha messo in evidenza una regolare quattro camere e una regolare sezione tre vasi trachea. Inoltre abbiamo regolarmente visualizzato la presenza dell'osso nasale, oltre che di una traslucenza nucale sottile e nella norma. La placenta appariva regolare senza calcificazioni e liquido ammniotico regolare per quantità. L'esame è stato eseguito anche per via transvaginale, come potete vedere dalle immagini si evidenza proprio questa area anecogena nelle mie addome di destra in prossimità di quella che la colecisti con la presenza di una calcificazione spessa nella sua regione posteriore. Di nuovo l'addome visualizzato con l'utilizzo del power doppler che metterà in evidenza un'assenza di pascularizzazione di tale lesione e la sua contiguità con la colecisti. Ovviamente il sospetto diagnostico è stato o quella di una calcificazione legata all'infezione fetale per cui è stato richiesto il TORC, oppure che potesse essere una massa addominale di cui è più comune appunto il linfagioma, una calcificazione legata alla fibrosi cistica per cui è stato richiesto il test appunto per tale patologia e in realtà anche un'espressione di un'anomalia del cariotipo anche se poco probabile considerando appunto che tutta la restante anatomia fetale appariva completamente nella norma. In ogni caso in via prudenziale è stato richiesto. Si è stati comunque ottimisti circa la prognosi con la paziente spiegando che tale formazione potesse rimanere invariata, aumentare di dimensioni ma questo molto raramente e che la cosa più probabile era che sparisse totalmente dando esito soltanto ad una calcificazione. In ogni modo si è rimandata la paziente ad un esame approfondito dell'anatomia fetale a 19 settimane. Queste sono appunto le immagini della stessa paziente rivista in epoca distrutturale. Come potete ben vedere la formazione anecogena e praticamente sparita era dato esito soltanto alla presenza di questa calcificazione che risultava localizzata appunto nell'emerdome di destra e sempre in prossimità della piccola colicistica. La paziente ha eseguito gli esami infettivologici che risultavano appunto negativi, non ha eseguito il cariotipo fetale, si è stati comunque ottimisti circa la prognosi rendendo la gestante della probabil benignità di tale lesione. Difatti lo studio della restante anatomia fetale ha dato appunto esito negativo. Grazie a tutti dell'attenzione.